Un inizio col botto per la prima serata dell'Italian Movie Award, il festival internazionale del cinema nello splendido scenario offerto dall'Anfiteatro della Cartiera Pompei, giunto quest'anno alla settima edizione. A roppere il ghiaccio con il pubblico presente, Luca Bete, noto conduttore di striscia. Al suo fianco, il cuore pulsante della Kermess, Carlo Fumo, presidente e direttore artistico del festival. Sul palco sono saliti anche Pier Giorgio Cesaro, direttore del centro commerciale, e Valeria Lubrano Lavadera, responsabile marketing di Sogeprim. Dopo i saluti, le luci si sono abbassate, lasciando lo spazio al primo corto in concorso del Short Social Competition e l'ombra è mass famoso del mondo, di Ruben Barbosa. Dopo poco, l'attesa del pubblico è stata placata dall'arrivo dell'attrice Valentina Lodovini, protagonista di successi come Benvenuti al Sud, La Donna della Mia Vita e tanti altri. L'attrice Umbra ha risposto alle tante domande fatte dai presenti, toccando diversi argomenti, come l'amore per il cinema, la politica, l'alimentazione e la formazione. Al termine della serata, Lodovini ha ricevuto il premio Vitruviano d'Argento, da Edmondo Gallo, direttore di Tecnoscuola. Subito dopo, l'esibizione della giovane lirica Elisabetta Vilni e la proiezione del film Ma che bella sorpresa. Valentina Lodovini, ospite d'onore della prima serata dell'Italian Movie Award, per te è un ritorno. Il pubblico l'ha accolta meravigliosamente. Sì, davvero, è bellissimo quando è così, ti senti proprio sostenuta, no? Durante il suo intervento abbiamo avuto modo di ascoltarla in diversi argomenti. Quello che mi ha colpito di più è quando ha parlato di quanto sia importante studiare, quindi un bel messaggio per i ragazzi. Quando invece si parla dei talent, talent però che permettono ai giovani di essere visti, quindi una vetrina, un trampolino di lancio. Lei cosa ne pensi? Ma è un discorso molto delicato, dipende dalla qualità. L'importante è che si guarda la qualità sempre, la serietà e la qualità. Però è un discorso molto delicato perché per una formazione, per uno studio, forse la visibilità non va bene, no? Cioè c'è bisogno prima di sperimentare, cioè la visibilità deve arrivare piano piano e dopo, non so come dire. L'unica cosa è quello, non mettere allo sbaraglio, secondo me. Stasera lei è stata anche premiata per il film, ma che bella sorpresa, dove interpreta Giada. Se potessi chiederle il personaggio che le è rimasto nel cuore, tra tutti quelli che ha interpretato finora. È come chiedermi vuoi più bene la mamma o il papà? Cioè è proprio la stessa domanda, non si può fare. Che vuoi bene la mamma o il babbo? Tu sai rispondere, io no. Prossimamente dove potremmo vederla? Guarda, adesso in realtà non al cinema, ma con Repubblica, su Repubblica.it e su Repubblica sull'Espesso abbiamo fatto una docu-fiction sulla strage di Bologna del 2 agosto dell'80. Sicché a breve questo ci sarà, questo a cui tengo molto perché bisogna coltivare la memoria, sempre. Grazie a tutti.